ciao a tutti benvenuti a un nuovo video, oggi andremo a installare questo kit XENON alla bmw serie 1 ok? iniziamo vediamo da vicino questo kit XENON per tutti il kit comprende due lampadine a cassette di 10.000 lumens ogni lampadina tipo di colore 8.000 kelvin ogni lampadina viene insieme alla sua rispettiva centralina e insieme a essa troviamo anche il suo manuale di istruzioni detto ciò iniziamo e prima di tutto andremo a rimuovere il tappo poi andremo a scollegare il connettore della nostra lampadina scollegati i connettori andremo a rimuovere la lampadina ecco qua poi andremo a ripetere l'operazione dall'altro lato ok rimosi i nostri tappi andremo a effettuare il seguente lavoro andremo a effettuare un foro del diametro di questa guarnizione qua però noi andremo a prendere la misura interna della guarnizione ok andrà in questa maniera in modo che faremo far passare i cavi della nostra centralina lasciandola all'esterno ok effettuati i nostri fori andremo a prendere la nostra lampadina xenon andremo a fare il seguente lavoro poi andremo a far passare i nostri connettori dentro il foro avremo questo lavoro qua ok fatto ciò andremo a effettuare le nostre connessioni il nero con il nero il rosso con il rosso il nero con il nero il rosso con il rosso il fatto ciò andremo a inserire le nostre lampadina una volta che abbiamo inserito la nostra lampadina effettuare le nostre connessioni mettiamo il nostro coperchio ok poi andremo a effettuare la stessa operazione dall'altro lato inseriamo la lampadina facciamo le nostre connessioni mettiamo il coperchio e non ci è rimasto altro che andare a collegare la nostra centralina andremo a posizionare la nostra centralina in modo tale che quando la macchina si è in movimento non ci saranno delle vibrazioni andremo a inserire i supporti forniti insieme al kit e la nostra centralina ok andremo a fare questo lavoro qua per poter fissare la nostra centralina alla nostra autovettura ok posizionata la nostra centralina andremo a fare le nostre connessioni semplicissimo il rosso con il rosso il nero con il nero poi andremo a connetterlo ok e il gioco è fatto la stessa procedura andremo a fare dall'altro lato ok effettuate le nostre connessioni andremo a vedere il risultato finale ok come vedete questo è il risultato finale se il video ti è piaciuto regaliamo un like e noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao